Prosegue la disputa tra Cardiff e Nantes per il pagamento del cartellino di Emiliano Sala, calciatore tragicamente scomparso a seguito di un incidente aereo. La società gallese ha chiesto ufficialmente un incontro ai transalpini per discutere della disputa pendente, sottolineando di non aver ancora ricevuto risposta. Il 26 febbraio scorso il Nantes si era rivolto alla FIFA, chiedendo il pagamento della prima rata pari a 6 milioni di sterline, tuttavia il Cardiff ha ottenuto una proroga sino al 13 aprile prossimo. Intanto da recenti indagini emerge che il pilota dell'aereo precipitato il 21 gennaio nel canale della Manica era daltonico e non poteva volare di notte.